Si chiama Save the Apps, l'iniziativa promossa a livello nazionale dalla Fondazione Aristide Merloni e dalla Fondazione Vodafone Italia. L'intento è quello di sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie digitali per contribuire al rilancio turistico ed economico dell'area penninica, duramente colpita dai terremoti degli ultimi anni e ispirata dal Censis, rappresente all'Aquila infatti il suo presidente, il professor Giulio Derita. Il progetto si sviluppa attraverso una piattaforma online e due applicazioni per smartphone. La prima app è dedicata alla promozione dei produttori locali di generi alimentari tipici. Per ora ci sono 28 produttori e 6 settori già attivi. La seconda app è dedicata ai cammini dello spirito, itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta, alla scoperta della storia, della natura e dei luoghi della spiritualità. In Abruzzo i due progetti di Save the Up sono stati realizzati con la partnership della fondazione Magna Carta del senatore Gaetano Quagliariello. L'iniziativa però è work in progress e aperta a nuove adesioni e nuovi percorsi di trekking e bike. Questo rientra in un programma che Magna Carta sta portando avanti per le aree interne. Questo programma prevede alcuni interventi dall'alto. Una legge nazionale sui terremoti, un codice unico per l'emergenza, la riforma della legge sui parchi e poi invece alcuni interventi che vengano dal territorio. Perché le aree interne oggi sono uno dei maggiori problemi che ha questo Paese. Tra queste iniziative c'è questa che è stata presa dalla Fondazione Aristide Merloni e dalla Fondazione Vodafone e alla quale per l'Abrusso partecipa Magna Carta. Premendo su questa app si possono ordinare questi prodotti in tutto il mondo. Stanno già arrivando ordini anche da fuori Italia ed è un modo concreto per dare una mano a chi sta qui e chi fa cose di eccellenza in questo territorio. La seconda. L'Abruzzo è la terra delle abbazie, è la terra dei castelli, è la terra degli eremi, è la terra di grandi santi. E il turismo religioso è uno dei turismi che si sta sviluppando di più oggi. E ovviamente a questo partecipano non soltanto coloro i quali hanno fede ma anche chi viene per ragioni connesse alla bellezza di questi luoghi.